Bene, grazie. Se non vi dispiace, vi saluto da qua, poi sto seduto così gestisco le slide. Bene, io sono Andrea Merri e nella vita cosa faccio? Tante cose, sostanzialmente sono un imprenditore, da oltre 15 anni sono impegnato nella gestione di progetti di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione Europea per diversi comitenti, per cui per lavoro sono quella persona che entra nelle dinamiche aziendali altrui come una mia azienda, quindi sono imprenditore che fa contatto con altre imprese, con gruppi di lavoro, di ricerca e devo dire che il mio quotidiano è un pendolo che uscilla dai conflitti interni, perché non tutte le ciambele vengono col buco e anche ciò che creiamo come situazione personale di lavoro a volte è una situazione conflittuale, a situazioni dove i coltelli volano a qualsiasi quota, per cui questo è l'Andrea Merri di giorno, l'Andrea Merri di notte, perché la doppia vita, la doppia vita è il pratico e il chido insieme ai nostri compagni, al nostro maestro, stasera trovate al centro del tavolo il presidente della commissione tecnica nazionale del settore al chido della FILGAM, che è la federazione con cui il CONI promuove l'artima sanitaria e poi ci siamo noi che siamo invece al primo livello della carriera di tecnici federale. Questa è l'introduzione, ancora grazie a chi ci ha introdotto e a chi ci ha permesso di condividere con voi questa serata. Innanzitutto, alzi la mano chi ha praticato o pratica arti marziali nella sua vita. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, vabbè qualcosa. Benissimo. L'achido viene definita come arte marziale, però prima di andare un po' nel dettaglio del mio intervento, per l'informazione personale io sono abituato a chiedermi il perché delle cose, a cercare di contestualizzare e aiutarci a contestualizzare le parole che ci diciamo, siano esse in una conferenza o intorno a un tavolo su una lira. Stasera sono entrambe le cose, per cui va bene. Quando noi parliamo di marziale, la nostra lingua è molto ricca, ha una semantica molto densa e deriva da una cultura che è quella greca, latina e europea, dove il dio Marte è la rappresentazione deificata dello spirito guerriero, dello spirito latino, dello spirito greco, Ares, Marte. E di marzialità si sono imbevute le milizie, i miles, i soggetti che si attunano in gruppo per andare a portare avanti un'azione di guerra. E sostanzialmente noi siamo anche veramente nel cuore della rappresentazione storica di questo flusso. Alle porte palatine, la stata di Cesare Augusto, ci testimoniano una storia dell'Europa unita sostanzialmente da un'azione militare che ha poi portato le basi per la storia del diritto, del diritto romano e le basi di quello che l'Europa è tutt'oggi come cultura e come società. Dopodiché la semantica della marzialità intesa come militarità, come vita militare, si è protratta e propagata il giorno sui nostri e si parla di, se si parla di mi alzo o alzo a tu, 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 così si sente di più. Si parla di militanza, qui ho messo una foto di Greta Thunberg, giusto perché è sulla bocca di tutti, che c'è una militanza politica, c'è un termine militanza che si usava nell'ambito ecclesiale nel passato, un termine che non mi è mai taciuto unire in questi due mondi, inteso non come vado e impongo il mio punto di vista, o forse a volte sì. Nella militanza politica questo è storia di tutti i giorni, anche dei nostri giochi attuali. E poi la società, una società che parte almeno per 2700 anni, secondo determinati significati, sfoga la sua esigenza di militanza un po' dietro Facebook, mettiamo tutti i leoni da tastiera in questo collegamento con YouTube, con i vari social, è molto interessante. E un po' si sfoga negli elementi collettivi, invece, nella foto di una curva di tra, dove il devi morire risuona esattamente come al Colosseo di Militanza. Dall'altra parte il Giappone, la nostra disciplina, una disciplina che fonda le radici nella cultura giapponese, quando si parla di arti marziali, generalmente si usa un termine marziale che fa parte della nostra antisemantica, della nostra cultura, ma ci si riferisce a una cultura giapponesa. Allora, qua abbiamo messo il kanji, il ideogramma di bujutsu, cioè tutto insieme a delle tecniche di guerra vastissime. E tutto sommato, siccome i giapponesi non sembrano, sono esattamente persone come noi e quindi hanno la stessa storia nostra, anche se non hanno mai parlato latino, partiamo da la deificazione del Dio del Guerra, uno delle comunità centriste, Hachiman, a cui i samurali si rivolgevano per chiedere e auspicare il favore di Lattania. Una vita feudale, militare, molto per l'asila, tutte le classi sociali erano in qualche modo addestrate all'uso e alle tante tecniche militari a uso delle armi, tanto che poi, a circa nel 1600, per motivi fiscali, anche questo e giappone che sono identici a noi, c'è stata una netta distinzione tra la classe, la casta guerriera, samurai e tutti gli altri. Per cui si può dire che, mentre noi abbiamo avuto una traiettoria evolutiva con gli europei, tale per cui, sì, abbiamo mantenuto il servizio militare, i nostri nonni hanno fatto le guerre, però sostanzialmente nessuno di noi o dei nostri genitori o dei nostri nonni ha praticato quotidianamente una disciplina per formarsi alla difesa, all'offesa. Questo nel Giappone si è contratto per molto più tempo. Il Giappone esce dal suo medioevo soltanto alla fine del XIX secolo ed esce radicalmente dal suo involcro con i due confetti che gli americani hanno spedizzo sulle loro teste, distruggendo Hiroshima e Nagasaki, ed è molto significativo il fatto che, contestualmente, il loro imperatore viene obbligato a ratificare la resa e a mostrarsi come perdente dal suo popolo e questo per quanto riguarda il Michi, cioè il modo giapponese del giapponese di vivere, era qualcosa di impossibile pensare che ci potesse essere una situazione tale per cui il mondo restringesse la cultura e il modo di vivere giapponesi che i giapponesi interpretavano, lo sommato interpretano ancora adesso come figlio e venuto, per cui loro sono usciti totalmente dall'incubo della guerra e entrando in un altro incubo che è quello che da ricerca identitaria, come popolo e come singoli, privati del loro spirito guerriero. Dopodiché, qui non si vede bene perché lo schermo è in fuoco, però la società giapponese, nonostante sia un po' di questi principi, ha come le stesse tregi e anche le stesse devianze. No, se abbiamo i doni da tastiera qua, come abbiamo un cosplay là e persone totalmente distante dalla realtà. In mezzo ci sta l'Aikino. Perché dico in mezzo ci sta l'Aikino? Lì c'è il kanji, la l'Aikino volta a risolvere un conflitto bello nel più breve tempo di Sibere che da noi si è sollevata già a partire dal Medioevo con lo sviluppo delle armi da fuoco, mentre nel Giappone fino a metà del 1800 si andava ancora prevalentemente in spada. L'Aikido viene inventato da una persona, da Moriego Shiva, che è una persona che è veramente situata cronologicamente a cavallo di questi due modi, perché nasce negli anni sessanta dell'800 e muore a metà del novecento. Quindi è colui sul quale è stata possibile sperimentare tanto la frustrazione di un mondo che andava ormai a tramontare, quanto da integrazione con l'esigenza di un mondo globale, un mondo dove era evidente che se il confronto tra fazioni, tra pluralità doveva venire solo dal punto di vista bellico, l'umanità andava ad auto-destruirsi. Per farà con l'Aikido a rinnovare tutta la sua esperienza di persona che, come tutti i giapponesi del suo tempo, ha imparato a fracassare di volte e a uccidere in breve tempo l'avversario, va a purificare di queste finalità perverse la sua esperienza e va a sperimentare attraverso gli stessi principi, una metodologia relazionale ma comunque, se vogliamo dirla così, anche efficace dal punto di vista fisico-marziale e risoluzione del conflitto. Questo uomo ha lasciato diversi scritti e direi che è uno dei pochi fondatori degli arti marziali di cui abbiamo testimonianze anche multimediali nelle registrazioni e lascia scritto questo pensiero. Ledere un avversario significa ledere se stessi. L'arte della pace è uno dei sinonimi che viene dato all'Aikido anche se non è la traduzione. L'arte della pace è controllare l'aggressione senza ledere. Capite che questo è praticamente diverso come rispetto a quanto anche attualmente viene proposto in diverse declinazioni delle arti marziali insegnate nelle nostre palestre e anche radicalmente diverso rispetto alla prospettiva di girare con il peperoncino spray nella borsetta o nella tasca perché qui non c'è differenza di genere, gli utenti sono equivalenti, e mandare all'ustarmi con una persona che magari ti ha guardato di stocco così, di spray e di sbruffi che non c'è la bioncina di occhio e ti guarda il corpo di stocco. Quindi questo è un radicale cambiamento di prospettiva, totale cambiamento di prospettiva di concepire che cosa sia il conflitto e quali siano le finalità del conflitto stesso. Si può dire che gradualmente l'esperienza del fondatore dell'archido e gradualmente la nostra esperienza dei praticanti è un'esperienza di simulazione di conflitto a livello fisico, in palestra, nel dojo, sul totale, per arrivare a capirne le componenti fondamentali. Le componenti fondamentali del conflitto sono qualcosa che, nascendo il conflitto da una relazione, parla chiaramente di noi all'interno di una relazione. Il conflitto è un'esperienza che proviamo tutti e direi anche quotidianamente. confliggere e urtare contro è uno dei problemi, uno dei tanti problemi della nostra società e non ci vuole zingumar a dirci che viviamo in una società liquida per capire che nelle relazioni perdiamo di vista noi stessi e perdiamo di vista gli altri. Uno dei problemi è che perdiamo di vista il significato delle parole che descrivono noi nel nostro contesto. E spesso pensiamo e testimoniamo infatti che la soluzione del conflitto sia un non meglio precisato confronto, non sapendo che confronto, o dimenticandoci che confronto vuol dire comunque uno scambio a livello di menti, di pensiero, non uno scambio a livello di individui con tutta la loro ricchezza. Molto spesso uno scambio di proiezioni mentali e quindi chiaramente cadiamo in altri livelli di conflitti con un confronto male in questo Stato. Certamente il conflitto ci parla di una eventualità. Ci siamo noi, c'è il problema, ci siamo noi, c'è la persona che mi sta sull'anima, c'è la persona a cui sto sull'anima e ci sono io. E costutivamente, proprio a livello di corteccia cerebrale, queste sono le le reazioni primarie di un essere umano di fronte a un problema, di fronte a un conflitto, sono reazioni istintive di tipo animale. C'è chi come reazione primaria ha l'istinto alla reazione, al combattimento, c'è chi come reazione primaria ha come istinto primario la fuga, di quello che ha fatto salvare i marmiferi, così dicono le teorie, da determinate situazioni, dell'evoluzione. C'è chi come reazione primaria ha la stasi totale. Io vi posso dire che sono una di quelle perché molto spesso, essendo io una persona molto, molto mentale, tutto ciò che mi sorprende al di fuori della griglia, magari più vasta e cerco di applicare l'interpretazione dell'applicato che vivo, mi congela. Un aneddoto stupidissimo, una volta in una sede di lavori in Corso, in Viguria, trovo una bella zucca per terra bellissima fresca, ovviamente attaccata alla pianta di zucca, e non vedevo che la pianta di zucca era cresciuta 8 metri distante da un orto di vicino. erodico, ed era presente anche i santi. Che bello! Mi alzo, la raccolgo, la stacco dal vicio e la porto a casa perché facciamo la minestra di zucca. 5 metri dopo mi sono trovata la proprietaria dell'orto con una sorta di randello in mano, e io sono rimasto così, no? Un baccalà. Quindi, questa è una situazione, diciamo, di conflitto inaspettato, no? Ma una situazione più di tensione, pensate voi cosa possa generare su un sistema come il mio. Quindi, istintivamente, il conflitto ci porta alla separazione, a rimarcare le dualità. L'Aikido porta, invece, a fare un discorso di sintesi, lo vedremo meglio dopo, no? Ma un discorso di sintesi, non dove l'individuo si dissolve in noi, pisa in loro, molto quest'ostra, anni sessanta, dove andiamo tutti da ora d'accordo e diventiamo giure amebe senza identità, e quindi per forza di cosa non abbiamo d'accordo. Una dualità dove entrambe le parti sono orate perché valorizzate e scoperte. Fare impresa. Allora, il conflitto nel mondo del lavoro, no? Io sono qua, non in sede, non mi potrei permettere di essere la sede cattedratica e tratturale, anche perché, tra l'altro, sono qui presenti dei professionisti che potrebbero portare molti più aneddoti dei miei, e una pluralità di evoluto è molto più arricchente. Detto questo, vi porto alcune considerazioni, alcune vissute. partiamo da un autore che io amo particolarmente, anche se è antitetico come persona al mio modo di concepire la vita, David Graver, che è un antropologo statunitense, e sostanzialmente è stato cacciato dall'Università di Yale perché è sovversivo, è un antropologo, no? Io sono, come tutti i torinesi, sanguinisto, ma sostanzialmente con mentalità sono molto salavo e l'anarchia un po' non mi piace. Però, di David Graver, apprezzo tantissimo questa lettura che tengo sulla scrivania e rileggo spesso, un articolo apparso qualche anno fa intitolato Il secolo del lavoro inutile. Il secolo del lavoro inutile è una lettura amarissima, ovviamente, è un punto di vista di questo altro coro, una lettura amarissima del fallimento dell'evoluzione tecnologica intesa come una evoluzione che avrebbe liberato l'umanità dal lavoro per permetterle di concedersi il lusso di vivere di più i propri interessi. Allora, Keynes, il grande economista degli anni 30, aveva detto che la tecnologia avrebbe permesso a fine del ventesimo secolo di arrivare alla settimana lavorativa di 15 ore, ma anche per tutti, e che tutte le persone avrebbero potuto poi dedicarsi a potenziare i propri talenti, non mi pare che siamo arrivati a questo punto qua. Invece siamo arrivati a una situazione dove chi lavora si sente sostanzialmente compresso, oppresso, molto spesso, al termine di liturgie che si vive e di chi non vede il senso. E non vedendo il senso, secondo Greber, la frustrazione aumenta. Ovviamente c'è un'altra popolazione che è quella di chi il lavoro non ce l'ha o di chi è escluso dal lavoro che sente un'ulteriore frustrazione e una barriera, un'attualità, una separazione sociale. E poi c'è una pluralità di situazioni dove vengono creati dei lavori o delle funzioni sociali a supporto di altre funzioni sociali, ma non se ne capisce il senso. Allora, il discorso è che in questa visione qua, quando poi all'interno dei nostri mansionari si sentono ripetere, almeno io, nel mio quotidiano, le ripeto io ai miei tempi o ai miei collaboratori, le ripeto a volte a me stesso. Sento le ripetere, dei mantra come le best practices, come i cobwebs, i valori fondanti, come il respect for the devil, il rispetto per l'individuo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono dei principi questi, o sono dei demoni a cui sacrifichiamo il tempo del nostro agire? E in un contesto del genere, prima la dottoressa Nessuma ha citato il libro del professor Grandi, che in fondo noi non saremmo qui se non ci fosse stata una visione di quest'uomo. è un libro che ho letto di fretta perché è uscito da poco, però consiglio, perché ne consiglio la lettura, perché è un libro di non psicologia, procedetevi, ma di riflessioni di una persona che ha solcato attraverso la psicologia e la psicoterapia animale dell'essere umano e se trovo il segno, perché nello che ne ho messo, c'è una parte, prima si citava l'angelo Cuscole, c'è una parte, ecco qua, c'è una parte che mette in correlazione il concetto di custodia con quello che è l'ambiente di lavoro, con quello che è l'ambiente delle nostre azioni. Il lavoro è tale che sia quello di un manager a Macan o che sia quello di una mamma che ogni sera si mette a riogli dalle case. Custodire vuol dire difendere, proteggere. Se esercito la mia tecnica, se esercito la mia tecnica con l'ottica di un custode, se prendo in custodia la persona o le persone di cui mi devo occupare, diventa tutto molto più complicato che esercitare semplicemente una tecnica e anche la gratificazione diventa molto più complicata nel tempo e inevitabilmente deve essere divisa con le persone con le quali mi rapporto. Per questo mi gratifica di meno, con minore immediatezza. Esattamente, e questa è la fotografia per lo meno delle mie giornate da partire, esattamente quello che oggi nessuno è disposto ad accettare. Tutti vogliono risultati, successi, gratificazioni, subito. Vi aggiungerei che molti, se non tutti, vogliono avere prestigio e autorità, dimenticando che l'autorità viene da un'autorevolezza con cui si gestiscono le relazioni. Per fine i protocolli aziendali sono tesi ad accelerare il conseguimento dei risultati, a prescindere dalla loro effettiva e duratura qualità. Quante cavolo di liturgie, quanti cavolo di modelli di gestione io ho dovuto studiare, sciroppare, metabolizzare, applicare su di me per tenere adetto o declinare in realtà aziendali di cui eravamo consulenti perché era una moda del momento. In realtà non funzionavano, perché se no sarebbero rimaste stabili, così sarebbero evolute. Sono state abbandonate molto spesso come vestiti vecchi. Allora uno si dice... Persino i protocolli aziendali sono presi ad accelerare il conseguimento dei risultati, a prescindere dalla loro effettiva e duratura qualità. E qui c'è il collegamento con il nostro mondo. 15 sedute per un attacco di panico, 8 per l'abuso di coccadina e così via, senza chiedersi mai chi è quello che ci sta di fronte e chi siamo noi per lui. Allora questo è banalmente la descrizione di una relazione da guarire, con una relazione da sanare, con una relazione da far emergere quelle che sono le sue positività e le sue criticità per essere esaminati in un insieme che diventi veramente lavoro di squadra. Quando noi ci vestiamo un po' tra, avevo detto, i zagliori, un panettiero, un bianchino, un muratore eccetera, e decidiamo anziché di starci nei seduti sul divano di andare a russolare per un paio d'ore dall'altra parte della città, in realtà stiamo andando a mettere in pratica proprio questo tentativo estremo di cercare di guarire le relazioni, partendo da noi, perché facendoci toccare, toccandoci, entrando in contatto acritico con un altro corpo, subendo una tecnica e poi impostandola su un'altra persona, il nostro corpo, che è la nostra società, è qualcosa di molto bloccato, di molto dimenticato, sicuramente molto malusato, fa emergere parti di noi che noi non pensavamo di noi, o di possedere, e quindi iniziamo a sentire reazioni nuove, iniziamo a percepire noi all'interno di reazioni nuove che scatenano reazioni nuove, i compagni, e pian piano questo c'inluirà la prospettiva anche nella giornata lavorativa e relazionale ad altri anni. Perché questo? Perché è proprio che se, esempio classico, non solo con i bambini, se la vedi di dite, alzate la mano destra, allora fanno così, alcuni colori. Esempio pratico, a me è successo tutto il primo anno, quando mi dicevo che avevo la spalla sinistra contatta e io dico, no, non ce l'ho contatto, c'erano delle tensioni, delle rigidità mie, caratteriali, in qualche modo emergevano attraverso il Soma e allora benvenga un qualcosa che nel movimento nel principio di città di un uomo dell'altro possa farci evolvere vado a chiudere in ambito lavorativo il tentativo di soluzione di un conflitto è finzione per il raggiungimento di obiettivi sono obiettivi di bilancio obiettivi di bilancio rispetto ai numeri chi ha una formazione generistica ma anche chi no perché tutto in banca comunque fa la chiave ma anche chi non ha una formazione economica rispetto ai numeri non si può sbagliare però dentro il numero ci sono sempre delle persone per cui l'approccio classico è quello dell'analisi del conflitto come sono come sono come è la classificazione le varie fenomenologie del conflitto le varie tipologie di persone all'interno del conflitto c'è il il leader c'è il portatore d'acqua c'è il paracidra c'è quello che è ma contro ma è nascosto sono studiato questo chi fa psicologia del lavoro gli scandaglia quotidianamente il monitoraggio questa classificazione è un po' come in un tentativo legittimissimo di classificare l'essere umano secondo dei libri di geometria soltanto che come tutte le classificazioni statistiche funzionano questi approcci in maniera anche a volte maggioritaria ma non totale e come comportarsi quando ci sono le eccezioni ho in giro la domanda perché diavolo a me che abitano sempre le eccezioni perché penso che questa sia una domanda che vale un po' per tutti al lavoro per quanto uno ti dica no ma ci devi parlare con una persona proviamo a condividere usiamo l'ennesimo strumento di collaborazione online gli strumenti vanno bene aiutano ma dietro c'è sempre una relazione con noi stessi e con una persona di persone che non possono essere ridotti a modello e quindi il discorso è che in un contesto dove la leadership o comunque l'autorevolezza che non vuol dire essere concettivi i rapporti nel mondo del lavoro o nel mondo dell'impresa in maniera gerarchica ma l'autorevolezza che viene fuori dall'espetto di quello che sei tu per me l'autorevolezza viene dalla relazione col compito e da come uno gestisce le criticità che viene fuori veramente il leader e lo si riconosce e questo fa saltare i nervi di quelli che pretendono di essere i capi senza esserlo un'altra cosa di verità quindi il discorso è l'alchilo è tutto questo che cosa può portare un discorso lavorativo non soltanto di un problema di relazione sicuramente sicuramente una nuova via di non negazione dell'esistenza di un problema ma non di soluzione marziale bellica perché la soluzione marziale bellica c'è l'attività c'è l'attività c'è l'attività giudere la bocca a un collega è abbastanza semplice quante situazioni di umiliazione si vivono in un contesto lavorativo subite o puntate creare terra bruciata triangolare per immaginare una persona è facile però è una via che non porta a una soluzione sposta semplicemente il conflitto ad una scala più grande l'integrazione del conflitto in una loro prospettiva significa in qualche modo uscirse questi sono alcuni dei casi accaduti realmente significa andare a identificare benissimo la reazione e la contrariazione che si scatenano in ambiente lavorativo di fronte all'analisi congiunta di un programma siamo in ritardo su una consegna ma tu non mi hai mandato i documenti di a me che ti avevo chiesto ma come posso fare che sto già lavorando per x, 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 raramente si prova a dire va bene hai ragione capisco il tuo punto di vista sediamoci un momento e vediamo come gestire insieme la commessa in maniera tale da poter onorare di bene o di niente e scaricarti di lavoro se posso fare io qualcosa ti vedo demotivato oggi non ci sei con la testa non hai più il fuoco che avevi prima questo nel mio mondo è qualcosa che c'è tanto tanto perché noi siamo i parafugli noi stessi e delle aziende la reazione non è vero io sono sempre scoperto ma si non hai visto iniziano a mandarti le metti una mezzanotte a una di notte descrivimi parla e raccontami non nego che io possa essere brutto raccontami aiutami a migliorare quello che manda e chiudo al nostro mondo professionale al nostro mondo in generale è che noi non siamo capaci di umiltà e di aiutarci a vedere il pregio di ciascuno e di donare a tutti quindi